Buonasera, vi ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, oggi 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo seguito, continuiamo a seguire con i nostri telegiornali e anche con i nostri speciali tutti gli avvenimenti di questa giornata, ve li proporremo anche nei giorni prossimi, una serie di speciali di approfondimenti, di trasmissioni, venerdì scorso nella trasmissione dei fatti e delle opinioni abbiamo avuto la possibilità di avere nei nostri studi le due operatrici della Polizia di Stato, le due ispettrici che lavorano al GAV della Procura della Repubblica di Pescara, quindi stiamo descrivendo la realtà di questo odioso fenomeno e anche soprattutto l'impegno di chi ogni giorno è al suo posto, fa il suo dovere per contrastarlo e soprattutto per informare, perché questo è lo spirito di questa giornata in quanto poi la lotta alla violenza di genere va fatta anche negli altri 364 giorni dell'anno. Ospite nei nostri studi, una delle prime professioniste che insomma sono riuscite a far fare un salto di qualità alla realtà della lotta alla violenza di genere sul nostro territorio. Saluto e ringrazio Francesca Di Muzio, buonasera. Buonasera a tutti. Che era fondatrice, una delle fondatrici di Donne, uno dei primi centri antiviolenza in Abruzzo, ad Ortona e soprattutto nel corso degli anni ha anche raggiunto una notorietà nazionale per i suoi interventi da avvocato e da giurista rispetto al tema della violenza. Allora con lei innanzitutto partirei dalla parte territoriale perché la sua Donne in questi giorni comunque è più mobilitata del solito sul territorio, lo è sempre, appunto l'ho detto in premessa, però ci sono iniziative nel quale è importante coinvolgere tutti a partire dai più piccoli. Vedremo anche delle foto e dei filmati. Grazie direttore, buonasera a tutti e a tutti. Sì, in queste settimane siamo impegnati ovviamente sul territorio a promuovere la nostra campagna di sensibilizzazione e di prevenzione contro la violenza sulle donne. Il titolo di questa campagna è con gli stessi spazi, all'interno degli stessi spazi, uguali e diversi. Perché questo? Perché abbiamo deciso di promuovere ovviamente tutte quelle attività che riguardano il tema della parità e della lotta alla discriminazione degli stereotipi di genere e l'abbiamo fatto attraverso momenti culturali di incontro, di confronto con tantissime realtà. Lo facciamo e lo continuiamo a fare a partire dalla necessità che tutti quanti in questo momento storico abbiamo ben chiara, quella di preverire il fenomeno attraverso l'educazione. L'educazione che noi portiamo avanti attraverso un laboratorio che in questi giorni è stato presente sul territorio all'interno dello spazio che abbiamo scelto per promuovere l'attività che è lo spazio dell'Ectis all'interno appunto del centro di Ortona. Si trova presso il corso del nostro comune. All'interno di questo spazio abbiamo continuato l'attività laboratoriale che svolgiamo già con le scuole. Un'attività che vede appunto i bambini e le bambine come protagoniste. Laboratorio a stereotipi zero, a zero stereotipi per i bambini dei quattro agli otto anni. Lavoriamo con strumenti semplici per garantire alle fasce minori di età con l'educazione al rispetto, all'inclusione, al rispetto delle differenze, ad un concetto di amore che è privo di qualsiasi catena e che consente alle giovani generazioni di fare quel processo di cambiamento che noi tanto auspichiamo. Abbiamo fatto degli incontri anche con alcuni autrici. Oggi pomeriggio proprio con la bloggerista Stefania Narchicca-Spanò che ha presentato il suo testo Non chiamatelo raptus. Non chiamatelo raptus rappresenta uno dei temi che noi affrontiamo anche nelle aule giudiziarie che è quello di non confondere la violenza con altre tipologie di atteggiamenti che sono assolutamente da condannare. Il centro antiviolenza di Donnè ad Ortona è una delle realtà, appunto una delle prime nate in questa regione, in questo territorio. Come procede l'attività? Quali sono i punti principali del vostro programma di attività? Anche concretamente assieme al fianco delle donne vittime di violenza e soprattutto quali sono le criticità che permangono ancora, suppongo, sia nella gestione di un fenomeno così complesso, sia anche nel rapporto con le istituzioni e penso anche alle necessità di finanziamenti. La nostra attività prosegue ed è realizzata sul territorio a 360 gradi e tutti i giorni. Il primo aspetto che mi preme sottolineare è quello relativo all'attività del centro antiviolenza. Ovviamente in questi giorni noi rappresentiamo ciò che il centro antiviolenza fa anche attraverso appunto tutta una serie di attività di sensibilizzazione e di promozione di una cultura diversa, ma dietro c'è il lavoro del centro, dietro c'è il lavoro delle operatrici che accolgono quotidianamente le donne. Quest'anno abbiamo avuto un'impennata di chiamate, abbiamo avuto 226 contatti, di questi 226 contatti abbiamo avuto quasi la metà tutte richieste di aiuto. A questo abbiamo dato seguito a una presa in carico di 79 donne e abbiamo visto che la violenza che rispetto agli anni passati si esprime anche con maggior evidenza è anche la violenza economica. C'è sempre una violenza psicologica, c'è sempre una violenza fisica, ma le donne denunciano anche e cominciano a denunciare tanta violenza economica. Le criticità che noi riscontriamo chiaramente sono quelle di farci sostenere dalla rete territoriale. Abbiamo bisogno che la rete territoriale si avvicina al centro antiviolenza. Quando parlo di rete territoriale faccio riferimento ovviamente al servizio sociale, ai carabinieri, alle stesse forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria che possa con noi effettuare quel cammino di contrasto alla violenza di genere e che abbia un linguaggio comune, che permetta quella che noi in questi giorni vorremmo fosse una chiamata responsabilità collettiva. Uso questo termine responsabilità collettiva perché è caro alla chiamata che ci ha fatto anche il padre di Giulia Cecchettini con la Fondazione Cecchettini, quella di metterci tutti a una riflessione profonda. La violenza di genere tocca tutti e tutti indistintamente. È la comunità che si deve muovere accanto alle donne, che si deve muovere accanto ai centri antiviolenza, che si deve muovere affinché questo fenomeno possa emergere e non sia sottaciuto. Non ci dobbiamo girare dall'altra parte, dobbiamo stare accanto a queste situazioni con sensibilità, con rispetto ovviamente delle vicende umane, ma lo dobbiamo fare anche comunicando che sul territorio ci sono quegli strumenti, ci sono quelle professioniste che possono accogliere, possono gestire, possono aiutare le donne. Facevo riferimento alla violenza economica perché un aspetto che il centro antiviolenza cura da tempo è la promozione a un'autonomia economica delle donne. Noi abbiamo dei fondi, questo lo voglio dire a beneficio delle donne. Le donne che si avvicinano al centro antiviolenza hanno la possibilità anche di recuperare un contesto lavorativo di cui sono state private, grazie ai percorsi che il centro antiviolenza promuove per l'autonomia lavorativa e riabilitativa. Da questo punto di vista noi abbiamo promosso con tantissime aziende, lo continuiamo a fare, entriamo in aziende importanti sul territorio che adesso non voglio ovviamente citare, ma con le quali stiamo mettendo in piedi dei percorsi chiaramente sostenibili per le donne, dei percorsi che permettono alle donne di inserirsi lavorativamente. E poi c'è anche una serie di strumenti di tipo legislativo che cominciano finalmente ad essere più incisivi nel fiancare le donne in un percorso che comunque rimane difficile perché poi c'è sempre la vittimizzazione secondaria, ci sono tutta una serie di problemi anche psicologici e sociali da affrontare nel momento in cui si esce dal mondo della violenza o anche semplicemente si esprime l'intenzione di farlo. Il Codice Rosso è stato recentemente riformato, quali sono le opportunità in più che noi vogliamo essere capaci di spiegare per informare chi si trova in questo guado, in questo confine da passare, da superare? Io dico sempre che la nostra legislazione sicuramente è all'avanguardia rispetto alla presa in carico delle donne vittime di violenza e ai percorsi giudiziari. Il Codice Rosso sicuramente è stato un punto non solo di partenza ma anche un punto fermo rispetto al contrasto sulla violenza sulle donne perché ha permesso di lavorare su questo tema o meglio sta permettendo di lavorare su questo tema in maniera più specializzata, più specializzata da parte degli operatori giudiziari. Lo fa attraverso tutta una serie di strumenti che si pongono nella direzione appunto di prevenire l'escalation della violenza. Con questo voglio dire che la procura, l'autorità giudiziaria penale ha nelle proprie mani degli strumenti per valutare il rischio di violenza e di escalation di una violenza che subisce una donna allorquando va a denunciare, allorquando rappresenta e fotografa la situazione di violenza e lo fa attraverso appunto tutta una serie di indicatori che il Codice Rosso ha voluto evidenziare e sottovalutare. La procura fin dalla trasmissione della notizia di reato ha la possibilità appunto di valutare la gravità di quella situazione. Questo come va valutato? Va valutato tramite anche un buon lavoro di indagine. Questo buon lavoro di indagine passa ovviamente da un ascolto corretto delle vittime di violenza. Questo ascolto corretto viene fatto adesso entro tre giorni dalla trasmissione della notizia di reato. Viene fatto anche attraverso la videoregistrazione della testimonianza della vittima. Quindi è importante accompagnare le donne in questo processo, nel processo di consapevolezza, nel processo che il procedimento penale ha ovviamente una sua difficoltà legata al racconto doloroso che queste devono affrontare, ma allo stesso tempo possiamo dire alle donne che accompagnate correttamente possono uscire dalla violenza, che il procedimento penale e il sistema penale si pone a loro accanto anche attraverso una gamma di misure cautelari che permettono ovviamente alle donne di essere protette nella fase appunto più acuta della violenza che si esprime attraverso comportamenti che poi arrivano ad un'escalation tale per cui c'è un rischio letale. Io voglio ricordare sicuramente l'utilizzo del braccialetto elettronico, che pur con le criticità è stato posto come elemento di protezione delle donne. Dobbiamo rafforzare non solo l'utilizzo di questi strumenti, ma dobbiamo rafforzare la formazione rispetto ad un buon codice, evitare, quello che diceva lei direttore, la vittimizzazione secondaria. Quando vediamo delle atteggiamenti ambivalenti delle donne, quando siamo di fronte a questi atteggiamenti ambivalenti che sono caratteristiche del ciclo della violenza, anche noi come operatori della giustizia ci dobbiamo allarmare. Quello è un segnale, è un sintomo della violenza e quel sintomo della violenza lo dobbiamo saper leggere attraverso degli strumenti che si pongono a maggior protezione delle vittime. Perché? Perché il percorso della danno è un percorso lungo, un percorso di consapevolezza che spesso non rispetta ovviamente i tempi del processo e della procedura penale. Dobbiamo stare attenti alla vittimizzazione, soprattutto nelle sentenze, un aspetto molto importante, quello che ha messo in evidenza la Commissione Femminicidio passando in rassegna le sentenze sia del giudice penale che del giudice civile. Dobbiamo evitare di colpevolizzare le donne e su questo richiamo alla responsabilità anche rispetto alla presa in carico degli autori di reato. Se mi permette vorrei citare una sentenza... Abbiamo solo pochi istanti, però facciamolo. Volevo citare la sentenza 48.880 della Corte di Cassazione del 7 novembre. La sesta sezione ci dice una cosa importante rispetto agli autori di reato. Quando il giudice indica nella sentenza appunto un percorso di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dell'imputato, ci dice una cosa importante, che questo percorso deve andare ad analizzare la radice strutturale della violenza di genere. Così si esprime la Cassazione dicendo che questo percorso deve essere un percorso di cambiamento dell'autore di reato è stato volto a modificare le atteggiamenti relazionali in particolare rispetto alla cultura della supremazia dell'uomo sulla donna. Quindi la Cassazione ci dice che il problema della violenza di genere nasce da questa tipologia di cultura che genera questi delitti che sono lesivi della incolumità psicofisica dell'individuo è su una violazione dei diritti umani. Quindi anche la Cassazione ci dice la violenza di genere è il portato di una cultura che vede la donna subordinata all'uomo. Non a caso da ricordare in questi giorni in cui si è discusso molto del patriarcato. Grazie a Francesca Di Muccio, grazie a tutti voi per averci seguiti. L'appello è sempre lo stesso. 1522 è il numero da fare per le vittime di violenza, ma anche per chi come noi nota qualcosa che non va nelle persone che si hanno vicino o che semplicemente si incontrano per strada e deve fare il suo dovere civico di denuncia. Grazie a tutti voi, arrivederci, buona serata.